Il cappellino è d'obbligo se sei un allenatore Pokémon, no? Quindi, andiamo. Ciao ragazzi, ben ritrovati da Andraninke e benvenuti in questo primo e probabilmente anche unico video di Pokémon Unite, perché non so giocare MOBA. Mi manca tantissimo la voglia di imparare cose nuove perché sono vecchio, quindi farò qualche partita Pokémon Unite tanto per provarlo, per vedere se effettivamente è meglio di quello che ci hanno mostrato nei trailer. E ho fatto appunto i match di prova che ti fa fare il gioco per appunto aumentare la tua skill e è carino. Matchmaking Successful. Ah, c'è anche una ragazza, meno male, pensavo, ehi, tutti maschi, la festa della salsiccia. Ma io ho scelto come Pokémon iniziale partner Charizard. Non lo so, voi chi scegliete ragazzi? Scegliete voi, io scelgo per ultimo. Charizard, l'ultimo, Hissor Rossi. È italiano, è italiano sicuro, è italiano sicuro, perché Hissor è Rossi. Gli altri hanno tutti quanti oggetti, io no, quindi loro dicono, cazzo c'è un Noob in partita, no! Eh già ragazzi, il gioco mi dice di andare di qua? Ok, allora dai. Dai, dai, su. Iniziamo appunto, bisogna sconfiggere i Pokémon, quanto pare, per fare qualcosina. Ah, ma ZR, ah, avevo bloccato, pensavo che avessi solo... Sì, però, oh, almeno qualcosa ho preso, dai. Iniziamo insomma, no, a fare un po' di danni. Ok, R, vai. Ok, sconfiggiamolo. Ok, questo. Bisogna iniziare a fare un po' di punti e colpire i punti gialli sulla mappa, da quello che so. Ah, questo è il nostro, ok, sono sbagliato, cacchio. Chi è questo? Mannaggia ragazzi, vi faccio il culetto. Oh, yeah. Vai, pointo. Ok, chi è? Di chi è il The Ghost? Non è il nostro? Ma, insomma, ragazzo, ti sfascio. Ti sfascio la vita, ti sfascio. Sì, sì, scappa, scappa. Oddio, scappo burio, scappo burio. No, 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 scappa, 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 scappa. Cos'è successo? Lo dico, lo peggio. Madonna, ragazzi, ma... Aspetta, 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 aspetta. No, devo andare ad aiutare questo qua sotto. Questo qua sotto. Mannaggia. Vieni, vieni, corri, corri. Oh, grande, grande. Perfetto. No, mannaggia. Pikachu del cacchio. Vabbè, Pikachu è sgravato. Sì, vabbè, è tua madre. Tua madre è grande. Oh, qua che è? Che è qua? Gianni! Eh, vaffanbagno, Pikachu. Hai rotto il palle, Pikachu. Oh, vai mo. Vendetta su quel Pikachu. Sì! Presa la vendetta su Pikachu. Vai, scorriamo 27 point. Bella! Per me. Ma andiamo, 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 andiamo a fare... Ma la zona, ragazzi, mi faccio vedere io. Porca miseria. Guarda, guarda. Dai, 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 dai! Boom! Movimento sismico, baby! Dai! Ah, sì! Sì! Sì, baby! Sì, yeah! Mi recupero un po' di salute. Nice! Vabbè, ignorami. Perché c'è Zapdos, sì. Nica scemo. Dove cavolo si va per Zapdos? Di qua, su, che sta al centro. Ci aiuta tantissimo Zapdos, dai. Che poi compare spesso Zapdos. We have a huge lead. Ragazzi, se vinco la prima partita a Pokémon Unite, mi voffa il bagno nudo. Nella vasca. Come è normale che sia. No, vabbè, sarebbe una scena brutta. No, non vi faccio vedere. No, tranquilli. Tranquilli, poi non potrei neanche caricarlo. No, 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 aspetta. Sì, perché abbiamo i punti, dobbiamo usarli. Però anche loro ci stanno massacrando le zone. Ah, ok, l'ha fatto Rossi. Va bene, Rossi, bravo. Mi piaci, Rossi. Sei un ragazzo bravo. Ok, distruggiamo un'altra zona. Dai. Yeah! Più cento. Oh, abbiamo vinto, raga. Che vuoi? Vuoi farlo? Vuoi farla luce? Dai, è qua. Ma, Zon, ti prendo. Vai! L'ho preso alla fine con un movimento sismico, eh. Vai, abbiamo vinto. Prima partita vinta. Grande, Andrei Link. Bene. Bene, bene, ragazzi. Cazzo roma. Se mi piglia la fissa per i mob è finita. Non carico altro. Ah, sono stato anche più bravo. E allora sono gli altri che sono scarsi, scusami. Hanno gli oggetti, loro, tutti quanti fighettini. Arrivo io che non ho mai giocato. Ok. Main menu. Yes. Oh! Posso prendere la bandana. Questa aumenta del 10% in teoria in Pokémon. Qua sarà un per... No, un per cento. No, che fa... Niente, aumenta. Facciamo un'altra lotta, allora. Quello, secondo me, Cap27 ha spammato A da quando ha iniziato a... Ah, però ci sono anche altri che hanno appena cominciato, perché non hanno strumenti neanche loro. O non sanno come darli, come me. No, so come darli. Ho visto tutorial, ma... Ci penserò dopo. Tanto faccio solo queste due lotte per oggi. Poi se lo gioco, lo gioco per conto mio, st'estate. Proprio. Ad agosto di prepotenza. Fatto beh, avversario. Fatto beh, abbiamo distrutto un avversario. Io e un mio amico, grande. Bomba! Aspetta, ti vengo a dare una mano, ti vengo a dare una mano. Aspetta, amico, scusami. T'ho lasciato da solo. Bene, bravissimo. Grande, Gianni. Bravissimi tutti, raga. Mi piacete, mi piacete, raga. Mi piacete tantissimo. Bravi. Oh, ma zonna, ragazzo. Vieni qua. No, cosa fai? Vieni qua, vieni qua. Mamma mia. Dai, dai, dai. Porca, porca di quella... Porca! La porca. Boom, altri 18 gol. Vai. Vai, punti, gol. Vabbè, siamo capiti. Bomba! Vai. Vai, abbrasto. Ma, zonna, ragazzo. Ti sfascio proprio tutto, eh. Vai ora. Vai così, vai così, vai. Bravissimi. Guardalo, Andrelink. Come ti spacca tutto. Do scappi? Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua, vieni qua. Vieni qua, vieni qua. Che zecchia di serie. No, 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 no. In due no, 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 in due no. Mannaggia santa, mannaggia. In due. In due. Vofalo c'è in due? Vofalo c'è in due? In tre? Dai, dai. Vi sfascio tutti, vi sfascio. Che pezzettini proprio, eh. Attaccarmi in tre. È colpa mia che stavo nella loro base. Bene, è il nostro Rotom. E gli ho anche sconfitto uno dei loro amichetti lì. Devo scorare sti point. Porca zozza, no. Sto dormendo. No, svegliati, 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 Andrelink. Svegliati, svegliati. Svegliati. Dai, vai, vai. Grandissimi, raga. Grandissimi. Ok, si è reso il team avversario. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto per resa. Bene. Li abbiamo devastati. Li abbiamo devastati. Ragazzi, ma Eldegoss è una divinità. Eppure, è due team che lo usano e l'ho sempre sfasciato. Wow. Beh, erano forti comunque sia loro. Hanno un bel po' di... Ma ho fatto ancora l'uomo partita? Ma sono gli... O è il cappellino. O sono gli altri che fanno schif... È il cappellino. Perché questo è il cappellino di Red. Non è il cappellino. Red è il miglior allenatore del mondo. È ovvio che vinco. Va bene, ragazzi. Il video termina qui. Volevo giusto farvi vedere un attimino quanto sono schillato. Non avendo mai giocato. No, ma sono davvero soddisfatto. È un bel gioco. Mi piace. È interessante. Comunque sia davvero, davvero carino. Mi sta prendendo pure troppo. Ho paura di finire in questo loophole di... Mangia, moba. Mangia, moba. Mangia, moba. Senza dormire. Mangia e moba. Mangia e moba. Ragazzi, ovviamente vi ringrazio per aver seguito il video. Mi raccomando, se avete Switch, provate subitissimo Unite. Se no, aspettate settembre che esce anche per mobile. Ad ogni modo, in descrizione il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi a noi. Ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye. Bye bye. Bye bye.